Tra le società protagoniste quest'oggi a Lime Investor Day 2016 abbiamo Offedonna e parleremo e discuteremo della società con il direttore generale Maurizio Schiavo. Buongiorno. Buongiorno. Inizierei con il tracciare un po' quali sono le linee strategiche di sviluppo della vostra società. Il gruppo Fedon è un gruppo quasi centenario che opera da sempre nella produzione e commercializzazione di astucci per occhiali per i grandi fabbricanti dell'ottica e in particolare nel segmento medio-alto, quindi quello dedicato alle grandi griff della moda. Questo è il core business dell'impresa. Da alcuni anni la Fedon ha sviluppato un proprio marchio e una propria offerta di prodotti che vanno dal prodotto in pelletteria per il viaggio e per il lavoro Ha gli accessori personali. Più recentemente abbiamo sviluppato gli occhiali da vista e da sole e quest'anno abbiamo lanciato per la prima volta una collezione donna, quindi una collezione femminile, in un marchio il nostro che ha sempre avuto una valenza prevalentemente maschile nel passato. Questo business è quello che ci interessa sviluppare di più in futuro. Quindi le linee guida di sviluppo sono essenzialmente due. Da un lato completare l'offerta con prodotti sempre più sofisticati e pensati per il consumatore e in particolare per il viaggiatore. Abbiamo fatto recentemente parecchi trolley molto interessanti perché pensati proprio per chi deve viaggiare frequentemente. E dall'altro lo sviluppo della rete distributiva. Noi oggi abbiamo 16 negozi, 3 in Asia e 13 in Italia, quasi tutti negli aeroporti e nelle grandi stazioni. Privilegiamo il travel retail perché lo riteniamo particolarmente interessante per la nostra offerta. E stiamo naturalmente specializzando poi l'offerta anche in rapporto al bisogno del viaggiatore. Molti trolley, zaini con le ruote, ogni tipo di prodotto che può aiutare il viaggiatore a sentirsi molto libero durante il viaggio. Quindi questo è il punto di partenza. Cosa faremo in futuro? Cercheremo di aumentare, di accrescere questa rete distributiva. Il nostro programma è arrivare nel 2019 con 35-40 negozi diretti, non soltanto in Italia e in Asia, ma anche nel resto dell'Europa. Abbiamo vinto la gara all'aeroporto di Lione e apriremo a marzo del 2017 a Lione, ma siamo in trattativa ad Hamburgo, a Zurigo, siamo in trattativa a Nizza. Quindi la nostra idea per il 2017-2018 è sviluppare soprattutto il retail diretto in Europa. Visto che quello in Italia è già molto sviluppato, la nostra presenza è praticamente in tutti gli aeroporti italiani. In Asia la prossima apertura è di nuovo un aeroporto, apriremo l'aeroporto di Hong Kong a settembre di quest'anno nel nuovo terminal degli intercontinentali, che è il terminal 3 di Hong Kong. Abbiamo un programma di sviluppo anche in Cina, dove siamo già presenti con un negozio a Shanghai, ma vorremmo espandere questa rete nei prossimi anni. Come dicevo prima, 35-40 negozi. Questo dovrebbe portarci nel 2019 ad avere un fatturato intorno agli 86 milioni di euro. Oggi, vuol dire 2015, ne abbiamo fatturati 71,4, quindi un'espansione di circa il 25%, ma soprattutto, che è il dato fondamentale, il nostro obiettivo da qui al 2019, e fare in maniera che il core business non sia più il 90% dell'azienda, ma sia il 75% dell'azienda, che i nuovi business abbiano un valore intorno al 25%, naturalmente di una torta più grande. Quindi il nostro core business noi lo difendiamo e siamo sicuri di poterlo mantenere, perché siamo leader incontrastati nel mondo, produciamo 50 milioni di astuce all'anno, abbiamo tre siti produttivi, per cui ci sentiamo tranquilli sul saper fare bene questo business. Ma vogliamo sviluppare il nuovo business perché i 100 anni passati siano in prospettiva altri 100 anni con nuovi prodotti e con nuove idee. Lato investitori, perché investire in Fedon? Quali sono le indicazioni che può dare? Direi che le indicazioni importanti, secondo me, sono le seguenti. Da un lato siamo un'azienda molto ben patrimonializzata, abbiamo una posizione finanziaria netta di soli 5,4 milioni con 71 di fatturato e 18,8 di patrimonio netto. Quindi siamo un'azienda che tende a investire i propri soldi e quindi in quanto tale è molto solida. Il secondo elemento è che da sempre la Fedon ha fatto piani industriali molto prudenti, non ha mai fatto piani industriali particolarmente aggressivi. Noi lavoriamo anno per anno, step per step. Non veniamo a dire apriremo 200 negozi perché sappiamo che non è questo il nostro obiettivo. Ne apriremo certamente altri 15, 16 per arrivare a 35, 40. Quindi siamo sempre molto mentalizzati a una crescita progressiva e non tumultuosa o comunque impetuosa. E a mio giudizio anche un po' la credibilità del management che è riuscito fino qui a far crescere questo gruppo centenario e a dargli continuità in questi anni, nonostante sia un gruppo che originariamente è sostanzialmente un terzista. Oggi ci presentiamo con un volto nuovo, abbiamo creato una nuova linea di prodotti, una nuova struttura distributiva. Credo che questo sia garanzia. L'esperienza a Lime è stata positiva. Ecco, e chiuderei proprio con una battuta sulla quotazione e su quello che è stato il vostro percorso in borsa fino a questo momento. Noi eravamo già quotati a Parigi, all'Euronext, nel 1998. Da allora il mondo è cambiato. La quotazione a Parigi veniva dal fatto che la Francia all'epoca era uno dei mercati più importanti del gruppo. Quando abbiamo capito che il nostro sviluppo sarebbe stato in una direzione diversa e quindi con una maggiore presenza e visibilità in Italia, abbiamo detto andiamo in borsa in Italia. Noi siamo già quotati a Parigi, vuol dire in un mercato regolamentato. Quindi venire a Lime, che è un mercato un po' più semplice, non è stato così complesso. Perché avevamo già tutta la struttura che funzionava con una logica da mercato regolamentato. Nel frattempo il titolo si era molto svalutato in Francia. Noi siamo entrati a dicembre del 2014 a Lime con un titolo che valeva 7,7 euro. È arrivato a toccare 25 euro. Oggi viaggia tra i 14 e i 15, quindi siamo molto soddisfatti della performance. Questa performance può certamente crescere proprio in funzione dei nostri obiettivi per il futuro. E riteniamo che sia interessante. Ringraziamo Maurizio Schiavo e Fedon per l'intervento. Grazie. Grazie a tutti.